Arriva il primo SIA al disegno di legge delega al governo per dare nuovo slancio al florvivaismo nazionale. Così Cia Toscana Centro commenta l'approvazione alla Camera del DDL, esprimendo grande soddisfazione per il progresso di un provvedimento atteso da anni a sostegno di un settore strategico dell'agricoltura made in Italy. Ora, commenta il presidente di Cia Toscana Centro Sandro Orlandini, ci aspettiamo tempi brevi e certi nel litera al Senato e soprattutto serve che i decreti attuativi siano veloci, perché altrimenti la legge non decolla e serve a poco. È importante riuscire finalmente ad avere dopo tanti tentenamenti un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione e commercializzazione per riordinare e valorizzare un settore che vale oltre 3 miliardi, conta 27.000 aziende e dà lavoro a 100.000 addetti. Bisogna rilanciare la produzione italiana di piante e fiori e proiettarla sempre di più nel futuro. Al florovivaismo italiano occorre una legge come questa che qualifichi il ruolo, caratterizzi i diversi attori della filiera, garantisca certezze di norme e risorse adeguate, aggiunge Orlandini, per rinnovare le aziende e renderle pienamente sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. E concludo Orlandini, è giusto ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio Giacomo Lapietra per aver riportato al centro dell'attenzione e dell'azione del governo il mondo del florovivaismo. Grazie. 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 Grazie a tutti.